E' un nuovo episodio di ModCraft con i Porgazzini Dei progetti difficili e diciamo lunghi o hardway o quasi impossibili Me ne avete dati di diciamo un bel po' interessanti, me ne sono segnato qualcuno Quindi grazie grazie mille a tutti quelli che hanno dato appunto dei progetti che potremmo andare a fare Appunto stavo dicendo, si la domanda di oggi riguarda l'episodio 150 Fra due episodi sarà appunto l'episodio fatidico E quello che voglio chiedervi è che cosa potremmo andare a fare di speciale in questo nostro episodio Quindi se c'è qualsiasi cosa che secondo voi potrebbe essere carina da fare O magari divertente in qualsiasi strano modo o qualcosa del genere Ditemelo nei commenti perché è appunto la domanda di oggi E questo riguarda anche magari sfide o cose che secondo voi potremmo andare a fare Quindi che ne so, magari prova a far esplodere, non so, 30 wither tutti allo stesso colpo Prova a uccidere, che ne so, un idra usando solo una spada di legno o qualcosa del genere Comunque la seconda domanda del giorno è come al solito Se avete degli altri progetti proprio qualsiasi o qualcosa che non avete mai capito O qualcosa che vorreste sapere come si potrebbe fare Lasciatelo pure scritto nei commenti che magari vi proverò a dare una mano nella serie Diciamo rendendolo parte di un nostro progetto Comunque passiamo al commento del giorno di oggi Che è uno dei progetti difficili che mi è stato dato Che sembra un progetto estremamente semplice E a proposito mi scuso per la mia voce ma ho ancora mal di gola Per chi si chiedesse cos'ho, ho la tonsillite Quindi diciamo che la mia gola non è nello stato migliore al momento Ma lasciamo stare Comunque passiamo al commento del giorno di oggi Che è di Bogbo103 o 103 Che ci dà un'idea che a leggerla sembra estremamente semplice Ma invece è molto molto ardua, è molto difficile da fare Perché cosa ci dice lui? Ci dice di andare a creare uno spawner Ovvero una farm in poche parole di idra Per chi non lo sapesse l'idra droppa più cose Droppa il suo sangue che può essere utilizzato per fare dei lingotti speciali Droppa del cibo e poi droppa l'ornamento questo qua con la sua testa Che è comunque qualcosa di carino da vedere Però dove entra la parte difficile? Beh la parte difficile è che per fare uno spawner di idra L'unico modo possibile sarebbe quello di andare a riempire uno soul shard al 100% Quindi al quinto livello Ed è un bel po' che non lavoriamo con i soul shard Quindi potrebbe essere qualcosa di interessante da fare E poi andare a trovare un'idra Che sono piuttosto rari da trovare Perché diciamo ce ne sono pochi E anche se la tua light forest è enorme Per trovarne uno ce ne se ne mette di tempo E appunto riempire un altro soul shard con questo nostro idra Però il problema dov'è? Il problema è che per ucciderli o lo si fa a mano O un po' come il wader si trova un meccanismo strano per ucciderli Senza appunto rischiare la nostra vita O senza dover stare a fare troppo lavoro per farlo Stessa cosa per contenerli Perché sono praticamente enormi E non c'è un vero e proprio modo per contenerli E in più non so se è possibile appunto creare uno spawner di essi Con la soul shard Quindi è un progetto che è piuttosto difficile Lo andremo a testare nei prossimi episodi piano piano Per vedere se funziona oppure no E magari che ne so dall'episodio 150 o qualcosa Lo andremo a effettuare veramente Comunque questo è tutto quello che volevo dirvi Per l'episodio di oggi E ora iniziamo veramente Ok allora la prima cosa che voglio andare a fare oggi È mostrarvi un nuovo item Più che altro un nuovo macchinario Che ci servirà per un progetto che non voglio 100% rivelarvi Ma più o meno capirete che cosa andremo a fare O più che altro per che cosa lo andremo a utilizzare Allora l'item o macchinario come il diamine lo volete chiamare È il cosiddetto magic energy converter Che è della mod GregTech E praticamente quello che fa è Permetterci di trasformare certi item Che sono considerati magici O che hanno un potere magico In energia di Industrial Craft Che anche se ne abbiamo tantissima C'è un motivo per la quale voglio utilizzare sto item Forse lo capirete dopo Forse no Non importa Allora Il magic energy converter è molto molto semplice Potete vedere che ha una gui molto semplice Ha un'entrata e un'uscita E qua ci dice un liquid amount Che poi non è liquido Ma lasciamo stare Non è liquido per tutti E in poche parole cosa possiamo utilizzare In questo nostro energy converter Beh Possiamo utilizzare varie cose Possiamo utilizzare o Cose che ci sono già in Minecraft Che non sono abilitate nella mia versione Perché ho deciso di Non andare con la versione Diciamo più nuova Perché non è totalmente sicura Quindi ho deciso di prendere una versione un po' più vecchia Di Greg Tech E non abbiamo questa feature Che è quella di utilizzare Netherstar Le Le Ender Le Ender Pearl E Gli Eye of Ender Come Diciamo Energia E anche il Beacon Block Mi dimenticavo Il Beacon Block E Diciamo Il Beacon Block E la Netherstar Sono i due item Che Portano più energia di tutti Che portano Penso 10.000 O 10 milioni Non ne sono sicuro Di energia Appunto Che è una Una cosetta un po' P Visto che non possiamo ottenere Le Netherstar Così semplicemente Quindi ho anche deciso Di lasciarla fuori Comunque Cosa possiamo Cos'altro possiamo utilizzare In questo nostro Energy Converter Beh possiamo utilizzare varie cose Possiamo utilizzare il Magic Tallow Che è una cosa di Towncraft Oppure possiamo utilizzare L'Ambra Possiamo utilizzare Vediamo Tutti i Shard Che abbiamo Quindi tutti e sei I nostri Shard Possiamo utilizzare Un tipo speciale Di Essenzia Ovvero di Coste Wispy Essence Possiamo utilizzare Il Quicksilver Poi vediamo Cosa possiamo utilizzare I vari Shard E possiamo anche Diciamo in qualche modo Utilizzare Un altro tipo di Essenzia Ci sono due tipi di Essenzia Che possono essere utilizzati Che sono La Ignis E la Potencia Ignis dovrebbe essere Quella del Fuoco E Potencia Quella Della Penso della mano Con il Fulmine in Mezzo Non ne sono sicuro Comunque Andiamo a vedere Come funziona Beh è molto molto semplice E ora capirete Per cosa andremo a utilizzare Noi Questo nostro Energy Converter Possiamo collegare Una qualsiasi cosa Per appunto Ricevere l'energia E appunto Fare output di essa E potete vedere Che io posso buttare Dentro l'Umber Non succede nulla Perché come vi ho detto Nella mia versione Disattivata Stessa cosa Per il Quicksilver Però quando inizio A buttare dentro I nostri I nostri Shard Potete vedere Che vengono consumati Creano questo fuoco Che alla fine Non è fuoco Ma è come se Stete utilizzando La magia Dentro i nostri Shard Per creare un fuoco E potete vedere Che una volta Che quel fuoco Sarà finito Passerà a quello dopo E potete vedere Che qui dentro Sta producendo energia Ogni shard Ha una diversa Un diverso livello Di produzione Tutti gli shard Diciamo Sono l'acqua Fuoco E terra Possono produrre 16.000 Di energia Quindi qua arriverà 16.000 E ora ha usato Anche il secondo Quello del fuoco Anzi scusate Può produrre Ben 32.000 Quindi doppio E quello Del vis Quello viola Ne può produrre 24.000 Quindi Terra Acqua E aria Possono produrre 16.000 Quello viola Quello di vis Ne produce 24.000 E quello del fuoco Ne produce 32.000 Ma non è quello Il motivo Per cui li andremo A utilizzare Il motivo È che ci producono I dull shard Che sono piuttosto Difficili da trovare Quindi li andremo A utilizzare Questo sistema Sia per crearci Dell'energia extra Sia per Crearci i nostri Dull shard Ok allora Anche oggi Andremo a lavorare Un po' Con le api Allora Prima cosa Che voglio farvi notare È che le nostre Ocean princess Hanno finito Di essere create Ci sono volute Un paio di volte Un paio di prove Per riuscire ad Arrivarci Però ci siamo arrivati Ho tirato Ho tirato fuori Le nostre Ancient princess E drone Da qua Perché ora Sono completamente pure Se vi state chiedendo Perché qua c'è Lillipad È perché per fondere E per creare Diciamo Le water princess Con La forest princess Per creare Le nostre ocean Ho dovuto Appunto mettere Quello Se no Non funzionavano Comunque Quello che voglio andare A fare ora È fondere Una nostra Ancient princess Con un noble drone Che ci andranno a creare Il primeval E nel frattempo Voglio mettere Le nostre ocean princess E ocean drone Qui dentro Per Diciamo Renderle più pure Di quello che sono Al momento Perché non sono sicuro Che siano pure Al cento per cento Qua dentro Voglio buttare Un paio di Ancient drone Per poter Prendere Il loro Trade Appunto Dell'Huncent E poi Voglio mettere A ricaricare Questo nostro Questo nostro Serum qua Che lo buttiamo Già ora Qui dentro E voglio mettere A rifinare Il maximum Fertility Visto che ci siamo E voglio ritirare Da qua No vediamo L'avevo lasciato Nella mia bag Il fast productivity Per metterlo Alla nostra Tropical queen Quindi mettiamo Anche questo A lavorare E vediamo Cosa abbiamo qua Effect cancellation No non ci serve Lo possiamo buttare E appunto Quello che vorrei Provere a fare Con questa nostra Tropical queen E renderla La migliore Possibile Però richiederà Un po' di tempo Flower pollination serum Ok non abbiamo Preso nulla Dalle nostre Ancient Visto che Non voglio Rischiare Di sprecare Queste nostre Ancient Questi due Drone Li terrò Da parte Qua nella nostra Cesta Perché non si sa Mai che Succede qualche Problema O qualcosa Del genere E devo stare A rifare Le Ancient Da capo Cosa che sarebbe Piuttosto Noiosa Comunque Appena Riusciremo A prendere Le Primeval Che sono Quelle che Stiamo facendo Ora qui dentro Potremmo andare A Creare Le cosiddette Oily bees Facendo Primeval Più Le nostre Ocean Che Ce le abbiamo Già qui dentro E una volta Fatto quello Potremmo andare Finalmente a Produrre Olio Quindi Olio Fuel E cose varie Con le nostre Api Che è piuttosto Carina come cosa Parlando Visto che stiamo Parlando di Produzione Varia Voglio farvi notare Che le nostre Emerald bee Hanno iniziato a Produrre un nuovo Tipo di item Che è questo qua Che si chiama Olivine dust Cos'è L'olivine Se non ricordo male Nella vita reale Non so se esiste Però Dovrebbe essere Nel gioco Una gemma Sì eccola qua La nostra Olivine Che è Diciamo Molto simile Agli Gli smeraldi A quanto sembra Almeno la forma Il colore Sono molto Molto simili Però Non so per cosa Può essere utilizzata Sembra per Di data storage Circuit Che non conosciamo Ancora Però potete vedere Che ha il suo blocco Ha varie cose Quindi è una nuova cosa Che stiamo producendo Appunto sempre grazie Alle nostre Emerald bee E potete vedere Che qua Stiamo andando Abbastanza bene Non benissimo Perché producono Vero a bassa quantità Però è sicuramente Meglio di nulla Comunque andiamo a controllare Qua le nostre bee Un secondo Non stanno lavorando Perché è notte Proprio sull'ultimo tick Hanno smesso di lavorare Quindi andiamo giusto A fare giorno E la prossima app che andremo a fare Dopo questa qua Dopo questa nostra oily Penso sarà O quelle del colore Che non so perché Le andremo a fare Però non so Sembrano piuttosto interessanti Oppure andremo a fare Quelle Che ci permettono Di produrre Vediamo Vediamo Cerchiamo comb Qui dentro Così vi faccio capire Cosa intendo Quelle che ci possono produrre Le cosiddette Blaze rod Che sono le blazing comb Vabbè Il blaze powder Abbastanza vicino Poi per esempio Ci sono altre cose qua Che sono piuttosto interessanti Abbiamo la zinc comb Che dovrebbe produrci Il zinco Abbiamo la bauxite Abbiamo Quella radioattiva Che ci produce L'uranio Quindi abbiamo un sacco di cose Ecco perfetto Abbiamo preso le primeval Ora vorrei far passare Queste nostre primeval Anche a loro A un passaggio Per essere pure Per ora le metterò qui dentro In modo da non dimenticarmene E potete vedere Che queste nostre ocean drone Che Ocean base Scusate Che non butterò via Le riutilizzerò poi Hanno prodotto La cosiddetta Wetcomb Che se noi andiamo a vedere Ci produce Il watery propolis Che può essere utilizzato Per creare acqua Quindi abbiamo anche Un utilizzo Per queste nostre Nuove ocean drone Che è Quello di produrre acqua Con le api Che suona un po' strano Ma vabbè Comunque questo è quello Che volevo fare vedere Oggi delle api Ora passiamo ad altro Ok allora Quello di cui vi voglio parlare ora Invece sono i node Di towncraft E Come spostarli E che cosa sono appunto Gli obsidian totem E i crystal core Allora Prima cosa Da mettere Diciamo Sulla tavola Da farvi capire I vari node In poche parole Per farvi capire Cosa sono E come si utilizzano Sono Delle piccole fonti Di energia magica Che sono quelle Che leggete in basso A sinistra Potete vedere Che ci dice Aura 357 E se io vengo qua Ci dice Aura 5 e 21 Perché appunto Ci sono due node Diversi In questa nostra Area Se io magari Vengo verso di qua Probabilmente potete vedere Che ora ce n'è un altro Qua da 4 e 20 Se io vengo di qua Probabilmente ce ne sarà Uno ancora più grande Da 8 e 88 Sapevo già Che c'era uno grande Qua perché C'eravamo già stati Ma Tralasciamo E cosa sono i node Sono questi piccoli Appunto Punti di energia Che ci permettono Di utilizzare l'energia Di towncraft In qualsiasi modo Noi vogliamo E ce ne sono Di diversi Diciamo Possiamo chiamarli Tipi Però Non è proprio Il modo Che volevo utilizzare Ma chiamiamoli Tipi Allora Per vederli Dobbiamo utilizzare I nostri Goggles of Revealing Potete vedere Che questo È uno dei nostri Node Questo qua Che ha una specie Di buco nero All'interno Che fa Delle specie Di sette Malvagie E appunto Un Un node Cattivo Possiamo chiamarlo Così Un node Malvagio Quindi un node Non buono Un node Cattivo Poi qua Siamo fortunati Ad avere Uno di questi Nostri Silverwood Perché i Silverwood Sono diciamo La fonte Principale Per i cosiddetti I cosiddetti Node Puri Potete vedere Che qua All'interno C'è un node Puro E loro si conosce Da Quella specie Di sole Che gira All'interno Di Questo nostro Silverwood Il terzo E Diciamo Modo Tipo Più semplice È il Node Normale Che dovrebbe essere Proprio questo qua Potete vedere che è normale Che non ha nulla di speciale Ed è un node Classico Ed è quello più Comune Quello che si trova Quasi Dappertutto Perché Perché in certi punti Del nostro mondo Ci sono i node Beh Per esempio Come in quel nostro Appunto Dove abbiamo visto Quello malvagio Esiste lì Un node Perché appunto È una specie Di punto centrale Una specie Di piccolo Tempio Di towncraft Qua Ne esiste uno Praticamente Enorme Perché appunto È Diciamo Un Un altro Templio Solo che qua È normale Potete vedere Che non è puro Perché i puri Sono solo O dei silverwood O molto Molto rari In gioco Senza dover Fare nulla di speciale Però diciamo Che i normali Sono i più semplici Da trovare E Cosa possiamo fare Con questi node Beh Possiamo utilizzarli Come stiamo facendo Per fare la nostra magia Oppure Possiamo Sfruttarli Per renderli ancora più grandi Renderli ancora più grandi E creare qualcosa Di abnorme E come possiamo fare Questa cosa Beh Per farlo Possiamo andare A utilizzare I obsidian totem E il crystal core Che abbiamo più o meno Visto nello scorso epigenio Facendo una specie Di piccola base È una specie Di quadrato Di 3x3 E il nostro Crystal core Va piazzato al centro Però un blocco Più in alto Di tutto il resto Diciamo È un po' costosa La cosa Però se siete Così appassionati Diciamo Della magia Di towncraft Vi consiglio Di farlo Quindi ora Possiamo cliccare Il nostro Il nostro crystal core Potete vedere Che si sta illuminando E piano piano Si sta alzando Allargandosi E diciamo Espandendo Tutti i suoi Cristali Potete vedere Un'animazione Piuttosto carina E ora Quello che sta succedendo È che in poche parole Il nostro crystal core Quello che sta facendo È prendere Il nostro Node più vicino Che è questo qua Il nostro normale E lo sta in qualche modo Diciamo Tirando E spostando Verso Il nostro crystal core Ovviamente Ha un certo range Potete vedere Che stanno uscendo Anche tipo Delle animazioni Dai nostri Obsidian totem Che è Piuttosto bella Come animazione Piuttosto carina E appunto Per cosa Perché si fa questa cosa Perché Appunto Un Diciamo Un Un node Più grande Ci porta A meno problemi Con la magia Ci porta A Sempre avere Diciamo Magia Appunto O Chiamare Energia magica A nostra disposizione Eccetera Eccetera Quindi è un sacco Di vantaggi Al momento Potete vedere Che tipo Sta rimuovendo Tutta l'energia Del nostro node Perché Per Appunto In conto di spostarlo Dovrà prima Fare una specie di drain Dovrà Consumare il node E poi lo sposterà Piano piano Appunto Verso qua Molto probabilmente Lo faremo arrivare Fino al nostro Crystal core Qua E poi lo sposteremo Ancora Fino a farlo arrivare A quest'altro Nostro A quest'altro Nostro Come si chiama Node normale Che non è lontanissimo Però Per farlo arrivare Ci vorrà un po' di tempo E probabilmente Lì faremo Incontrare a metà strada Perché Se no Richiederà Un bel po' di tempo Spero di essere stato Abbastanza chiaro Su come funziona Questa cosa Se non avete capito Qualcosa sui node O su come funzionano O appunto Su come si spostano Ditemelo pure Nei commenti Che cercherò di Diciamo chiarirvi Un po' le risposte Nel prossimo episodio E potete vedere Che si sta muovendo Piano piano Il nostro Il nostro fascio Di luce E sta portando Il node Fino a qua Ok allora Speravo di poterlo Fare oggi Ma siamo Alla fine Di questo nostro episodio Quindi quello Che avrei voluto Fare oggi Sarebbe stato Appunto creare Un nuovo Sistema E un nuovo Setup Dei nostri alberi Perché Perché Al momento Per arrivare Alla sequoia Ci stiamo mettendo Troppo tempo E sono un po' Stufo Di aspettare Quindi quello Che vorrei provare A fare È iniziare Già a lavorare Agli alberi Da frutto Che Saranno un po' Difficile da fare Ma sicuramente Non quanto Alla sequoia Perché Ci stiamo mettendo Un'eternità Ad arrivarci Quindi lo andremo A fare nel prossimo episodio Perché Per questo episodio Siamo già quasi Alla fine Anzi Se non siamo già Oltre 20 minuti Non lo so Però io spero Che questo episodio Vi sia piaciuto Se c'è qualcosa Che non avete capito Di quello che abbiamo fatto O di quello che Vi ho spiegato oggi Che erano cose Piuttosto complicate Quindi se Non avete capito qualcosa Lo capisco Ditemelo pure Nei commenti Vi chiedo per favore Di rispondere alle domande Del giorno Se avete Quei 20 secondi Quei 5 anzi Secondi Che richiedono Per essere risposte E nulla Io spero che l'episodio Vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare Mi piace, commentare Iscrivervi E fare tutte le cose Che dicono Ogni istante Il singolo episodio Se siete dei nuovi iscritti Benvenuti sul canale Spero che I video vi piacciono Se no Per quale motivo Vi siete iscritti E nulla Io spero che l'episodio Vi sia piaciuto Con questo Vi saluto E vi aspetto Al prossimo episodio E nulla Con questo vi saluto Bella raga Qui danni fra